Lo psicologo Armando Ferrari ed il filosofo Emilio Garroni, a loro l'Università della Calabria ha dedicato due giornate alla loro memoria e ad un testo in particolare che nel 1979 scrissero insieme, schema di progetto per uno studio della relazione analitica, e per due giorni clinici e filosofi si sono confrontati sulle due figure, ma anche sul rapporto tra mente e corpo, tra corpo e linguaggio, tra linguaggio e mondo. Sullo sfondo quella che sembra essere la condizione ineluttabile dell'uomo, ovvero il suo essere doppio e scisso e forse il desiderio di essere un solo corpo senza tormenti. I temi, tanto cari ai componenti del Centro Ricerca di Filosofia e Psicoanalisi dell'Università della Calabria, che da cinque anni promuove ricerche e incontri sulla psicoanalisi e sulle intersezioni con la filosofia e che ha organizzato le due giornate di studio, sono stati affrontati nelle relazioni dello psicoanalista Paolo Carignani, dello psichiatra Walter Procaccio e di Stefano Velotti dell'Università La Sapienza di Roma. Intervenuti anche i docenti dell'Università della Calabria Roberto De Ghetano e Felice Cimatti, i lavori sono stati articolati in due sessioni, presiedute da docenti unical Ines Crispini e Fabrizio Palombi, mentre il professore Perrelli, direttore del Dipartimento di Studi Umanistici, ha inaugurato le due giornate di studio. Fiorenza Gonzales per la C News 24